Il primo provino è stato la scena in cui lei non usciva dal camerino nel concerto di Samuele e Bezzani. No, 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 ma tu te la senti perché io ho un impegno con te. Quindi adesso devi uscire da questo camerino e devi andare a cantare su quel palco. Nell'ultimo provino era presente anche Matilda e la scena era quella dell'ospedale dove avevo appena fatto l'incidente. Perché hai detto che guidavi tu una macchina? Perché c'è già abbastanza problemi. Perché hai già abbastanza problemi te. Quando mi hanno chiamato è stata una gran bella emozione perché l'ho aspettata tanto la chiamata. È stata la prima cosa che realmente mi ha fatto saltare di gioia da quando ho cominciato.